Ti andrebbe di portare la nostra barca in California? Tu che dici? Sono più di 4.000 miglia. È una follia. Non me ne vado senza di te. Parti con me. Bon voyage, piccioncini! Com'è navigare in solitario? È una sensazione che non so descrivere. Ci sei solo tu e l'orizzonte infinito. L'organo ha cambiato improvvisamente direzione. diventando un fenomeno di categoria 5. C'è da preoccuparsi? Ti amo! Tieniti! Richard! Richard! Non ti preoccupare. Ci penso io a te. Siamo sperduti nel Pacifico. È un'area di ricerca infinita. Non ci troveranno mai. Siamo un lago in un pagliaio blu. E qualcuno! Non ce la farò male. Tu puoi fare tutto. Fidati di me. E adesso non puoi lasciarmi andare. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!